. Ian Someralder, dopo The Vampire Diaries, i vampiri tornano con Netflix . Ian Someralder, il bell'attore statunitense noto a tutti per aver interpretato il ruolo di Damon Salvatore nella serie The Vampire Diaries. . Dopo alcuni mesi di pausa per la nascita della sua bambina, avuta dalla moglie Nikki Raid, Someralder ha approfittato della saudico Mekong. . Una convention che si è tenuta tra il 22 e il 24 marzo in Arabia Saudita, per dare una notizia che ha entusiasmato tutti i suoi fan, Ian sarà il protagonista di una nuova serie targata Netflix . 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 Netflix, noto gigante dello streaming, ha ordinato una prima stagione di dieci episodi per questa nuova serie tratta dal romanzo V Wars di Jonathan Maberry. . 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 Interpretato da Ian Someralder. Che un giorno si trova a dover affrontare l'incredibile trasformazione del suo migliore amico, Michael Faine, dovuta ad una misteriosa malattia che rapidamente si diffonde. Faine, contagiato, diventa un letale predatore che si nutre di sangue umano e si pone presto a capo dei vampiri della città. Caste e sceneggiatura. Sebbene fino ad ora non siano stati annunciati i nomi dei coprotagonisti di Someralder. L'attore ha fatto sapere che presto saranno disponibili nuovi dettagli, perché la stesura del copione per i primi dieci episodi è quasi completata. . 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